Non si serve lo Stato se non si serve la Repubblica e con essa la democrazia. L'attività depistatoria di una parte di struttura dello Stato è stata quindi doppiamente colpevole. Un cinico disegno, nutrito di collegamenti internazionali a reti eversive, mirante a destabilizzare la giovane democrazia italiana a 20 anni dall'entrata in vigore della sua Costituzione. Il disegno che venne sconfitto furono anni in cui la consapevolezza delle forze democratiche di dovere battere la strategia eversiva portò all'allargamento degli spazi di partecipazione nella vita del Paese. Il destino della nostra comunità non può essere preda dell'odio e della violenza. Per nessuna ragione la vita di una sola persona può essere messa in gioco per un perverso disegno e dichiarazione eversivo. Italiani fra italiani, cittadini fra concittadini, devono essere custodi e attenti del futuro del nostro Paese. Questa è la fedeltà alle istituzioni della democrazia che ci sono state consegnate per la nostra Costituzione. Grazie! Grazie.